32 candidati al Consiglio Comunale per il Partito Democratico, 29 candidati con la lista Forza Pesaro di Mila della Dora. Quella di sabato è stata una giornata di presentazione di volti, nomi e cognomi di due schieramenti che sosterranno la candidatura a sindaco di Pesaro per il centrosinistra di Andrea Biancani. Biancani che nella sua sede elettorale di Largo Tremartire ha ospitato la sua squadra del PD con 32 nomi ben miscelati fra assessori e consiglieri comunali uscenti, così come fra giovani nuove eleve. Sono rappresentati i quartieri, sono rappresentati i territori, abbiamo un'importante presenza di giovani, abbiamo 7 under 35, un obiettivo è portare i giovani in Consiglio Comunale, giovani del Partito Democratico che dobbiamo valorizzare, sostenere per questo obiettivo. E' importante la rappresentanza dei territori, abbiamo rappresentato tutti i quartieri della città, siamo arrivati fino a Montecicardo, abbiamo un candidato di Montecicardo di cui sono molto contento perché il progetto di fusione deve essere concretizzato ulteriormente, deve essere rafforzato e la candidatura ha proprio questo senso. E' importante anche le competenze che in qualche modo abbiamo intercettato, dei candidati e delle candidate, abbiamo diversi esponenti del mondo dell'educazione, insegnanti, diversi esponenti del mondo sociale, del mondo ospedaliero, mondo dell'economia, del lavoro subordinato, dirigenti di azienda, liberi professionisti. Oggi rappresentiamo tutto il contesto cittadino, sui temi abbiamo ovviamente un tema principale che è quello della valorizzazione della capitale e della cultura e di tutto quel progetto, non è un caso che nel simbolo del PD abbiamo messo proprio la slogan, un capitale per la città. E ovviamente i temi su cui contiamo di rimpegnarci e di continuare a dare uno sforzo importante è quello del welfare, dei servizi sociali, servizi alle famiglie, servizi educativi. E ovviamente un impegno ancora da mantenere nella realizzazione dei tanti progetti a cui abbiamo attinto risorse che già sono iniziati, alcuni stanno iniziando, che sicuramente cambieranno il volto di peso. Appena due ore prima nella sala del Consiglio Comunale si sono invece presentati 29 candidati provenienti dalla società civile della lista civica Forza Pesaro con Mila della Dora. È una lista che si ampia, non parlerà solamente di sport ma avremo tanti argomenti. Ci piacerà condividere una cultura ambientale, una cultura intergenerazionale, la cultura della famiglia, la cultura dello sport, della socializzazione. Saranno tanti gli ambiti che vorremmo trattare. È una lista composta da under 30 e over 70, quindi c'è ampiezza nelle generazioni appunto per dare un contributo concreto su quelle che sono le esigenze dei giovani, delle persone meno giovani, ma ognuno nel proprio ambito darà il proprio contributo. Abbiamo parlato della necessità di avere una revisione del piano regolatore, abbiamo dato anche quelle che saranno le caratteristiche, ovvero provare a rifunzionalizzare quelli che sono i capannoni sfitti in una programmazione, anche una nuova previsione urbanistica, dare segnale forte a quelli che saranno degli spazi verdi. Abbiamo scelto di mantenere la flessibilizzazione delle destinazioni di usi degli immobili, ma poi del nostro programma elettorale parleremo anche in un'altra fase. Abbiamo fatto un accenno su quelli che sono stati gli eventi sportivi che abbiamo intercettato in questi anni, su quelli che saranno i prossimi. Abbiamo anche tanti elementi su cui vogliamo spenderci e lavorare. Siamo una città di mare, siamo una città di motori, siamo città della bicicletta, tutti elementi da rivendicare con orgoglio. Abbiamo la pratica delle discipline sportive indoor, outdoor, la vitri-frigo arena che è un catalizzatore importante di eventi sportivi e quindi tanto sicuramente si potrà continuare a fare.